Di tutti i vari modelli dei quali abbiamo parlato, vediamone ora uno in dettaglio, perché forse è quello che serve principalmente a chi si occupa di organizzare la formazione in sezione, ma ha delle applicazioni sicuramente anche per gli associati. Il modello di disegno dei corsi, che serve a guidare nell'organizzazione del corso, ma anche a organizzare dei corsi che siano omogenei sul territorio nazionale e a standardizzare la comunicazione sia delle informazioni del contenuto e della logistica, a formalizzare gli obiettivi di apprendimento, ma in sintesi anche ad aiutare a programmare in maniera coerente. Per la compilazione di questo modello bisogna fare riferimento alle linee guida per la formazione continua AIB. In questa prima parte sono necessarie per capire che cosa si intenda per corso di base, intermedio o avanzato, per individuare l'area tematica e formulare gli obiettivi formativi sui quali ci soffermeremo in di più tra un momento. Diciamo per ora che le conoscenze introdotte dalla locuzione CONOSCERE individuano i contenuti che verranno presentati nel corso, mentre le capacità introdotte da ESSERE IN GRADO DI si riferiscono alle competenze che il corso intende potenziare. L'obiettivo del corso, abbiamo visto che ci sono tre modalità di corso, base, intermedio e avanzato, l'obiettivo del corso di base è trasmettere quelle competenze che permettono al professionista di eseguire dei compiti, sia da solo che in collaborazione con un gruppo multidisciplinare. Si tratta, insomma, di sapere eseguire i compiti correttamente e in contesti diversi. Le categorie tassonomiche di Bloom descrivono gli obiettivi cognitivi, che vanno dai più semplici ai più complessi. Apriamo un attimo una parentesi anticipando la presentazione di Manuela De Noia sulle competenze. Mutuo da lei questa rappresentazione della piramide di Bloom, che ci è utile per capire che con il linguaggio è possibile definire diversi livelli del progresso cognitivo. A partire dalla base che è costituita dalle conoscenze, ovvero la capacità di ricordare e riconoscere determinate informazioni apprese, distinguendole da altre, via via nella piramide si sale aumentando la complessità e la necessità di utilizzare quelle conoscenze per rappresentarle ad altri e per metterle in relazione con altre conoscenze individuali, al fine di eseguire dei compiti che sono via via sempre più complessi e che prevedono un'autonomia crescente. Il livello successivo è quello intermedio, ovvero quello del professionista che pianifica e monitora progetti specifici, oppure specifici settori di biblioteca, come servizi, sottunità organizzative e via dicendo. Per far questo, il professionista coordina gruppi di persone che lavorano insieme, coinvolgendo e cooperando con una serie di stakeholders, ovvero portatori di interesse, sia interni che esterni alla biblioteca. Per far questo, deve essere in grado di rappresentare ad altri le conoscenze, di generalizzarle, di organizzarle, di adoperarle per aggiungere uno scopo e via dicendo. Potrebbe essere il caso di un professionista che organizza un'esposizione del materiale della biblioteca o che decide per una riorganizzazione delle collocazioni a scaffale alla luce delle esigenze dei propri utenti o altri lavori di riorganizzazione di settori o di spazi. Un corso avanzato mira a sviluppare nei professionista le competenze che gli rendano possibile elaborare una visione strategica, quindi risolvere i problemi in modo innovativo, decidere su finanziamenti e politiche di gestione e prendersene la responsabilità, partecipare a progetti europei e via dicendo. Ad esempio, per quanto riguarda lo sviluppo delle raccolte, potrebbe essere la persona in grado di predisporre un piano sulle tendenze e il futuro dello sviluppo della collezione, incluso il fundraising, e di prendere decisioni rispetto all'adesione a consorsi di acquisto. Torniamo al modello. Anche al punto 9, la metodologia didattica, si parla di conoscenze e capacità e si andrà qui a descrivere la metodologia che verrà usata per raggiungere gli obiettivi cognitivi che avevamo indicato al punto 8. Diremo qui se il corso, ad esempio, prevede lezione frontale, laboratori, lavori di gruppo e via dicendo. Con quale di questi strumenti si andrà a trasmettere le conoscenze? Attraverso quale strumento si stimoleranno le capacità? Al punto 10 si definiranno gli strumenti da utilizzare per valutare l'apprendimento. Lo faremo attraverso dei test, l'elaborazione di progetti, la valutazione dell'attività nel gruppo o del gruppo, del comportamento o dei risultati. Abbiamo visto che le linee guida comprendono una serie di esempi ed è sempre possibile elaborare creativamente nuove modalità. La scelta, in realtà, è del docente. Ovviamente, questa scelta consente valutazione di diversa profondità ed è doveroso comunicare in anticipo ai partecipanti quale tipo di esperienza di apprendimento dovranno aspettarsi. Al punto 11 si preciserà se è previsto o meno un tutoraggio e quali altri risorse si useranno per svolgere il corso, dalle attrezzature alle pubblicazioni alle risorse web come potrebbe essere la piattaforma AIB Formazione.it e siamo alla fine del modello. I punti dal 12 al 15 chiariscono a chi è aperto il corso, se solo a soci AIB o anche ad esterni, e a quali condizioni, se ci sono dei prerequisiti, se è previsto un numero massimo di partecipanti, qual è la quota di iscrizione, quali sono le modalità di registrazione, con quale impegno orario si svolgerà e chi sono i docenti e gli eventuali facilitatori. Sulla quota di iscrizione mi permetto una piccola digressione, sarebbe importante unificarla in qualche modo attraverso le sezioni perché molto spesso esperienze assolutamente simili, uguali, in regioni diverse hanno costi molto diversi. Quanto detto, finora non è che una breve presentazione del modello, le ulteriori precisazioni si trovano a partire dalle linee guida per la formazione continua AIB, disponibili sul sito di AIB e a partire dal corso.